L'applicazione di Black Letter è facile e veloce. Si agita il contenitore prima di aprire e poi si applica a pennello, su pelle e cuoio, puliti e asciutti e non resi bollenti dall'esposizione al sole, cercando di distribuire uniformemente il prodotto. Terminata l'applicazione, è importantissimo, qualche minuto dopo l'applicazione, togliere il prodotto in eccesso che non verrebbe assorbito e che, se non viene tolto, sporca e macchia. Terminata l'applicazione completa, la finitura è subito idrorepellente, ma sarà completamente asciutto al tatto, resistente a detergenti aggressivi e solventi e termoresistente, con la più lunga durata d'effetto mai ottenuta prima, una volta terminato l'assorbimento. Black Letter ha funzione fungicida per togliere la muffa e contrattarne la formazione per molti molti mesi con una sola applicazione. Durante l'applicazione, bisogna proteggere le parti non interessate al trattamento, perché il prodotto macchia. Quando l'effetto decade, il prodotto non lascia residui bianchi di silicone, cera o paraffina. Black Letter è un prodotto brevettato e unico Black Traction. Si distingue dai prodotti concorrenti, che hanno una breve durata d'effetto perché rimangono solo in superficie, che quando ci sono sono unti e quando non sono unti non proteggono più e non sono più idrorepellenti, perché Black Letter viene assorbito da pelle e cuoio e supera prove di resistenza a detergenti aggressivi e solventi che nessun altro prodotto è in grado di dimostrarvi di superare. Black Letter è un prodotto di facile applicazione, ma con caratteristiche uniche di efficacia, resa e resistenza, che permettono di ottenere una lunghissima durata d'effetto, che non puoi trovare in nessun altro prodotto concorrente. Lo puoi ordinare sul sito Black Traction e ricevere comodamente a casa, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon. Black Letter è un prodotto concorrente e ricevere comodamente a casa, ma non lo trovi su piattaforme come Amazon.